Musica Buongiorno dal TG2000 edizione delle 12 i nostri titoli strage di Corinaldo arrestati 7 ragazzi tra i 19 e i 22 anni provenienti dal Modenese una banda specializzata nei furti di monili in oro e in discoteca l'accusa è concorso in omicidio preter intenzionale nella strage morirono 6 persone fisco gli italiani sono tre più tartassati d'Europa dalle nostre tasche escono 33 miliardi in più pari a 552 euro a persona rispetto alla media europea i dati arrivano dalla CGA di Mestre le tasse in Italia sono il 2% del PIL la libertà non arriva stando chiusi nella propria stanza col telefonino e nemmeno sballando un po' per evadere dalla realtà il Papa incontra le guide di scout d'Europa nel telegiornale il collegamento con il Vaticano dunque sono sette gli arresti nell'inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il 7 e l'8 dicembre scorso morirono cinque giovani e una giovane madre in carcere ragazzi tra i 19 e i 22 anni tutti residenti nel Modenese farebbero parte di una banda dedita alle rapine in discoteca spruzzando spray al peperoncino David Murgia lì hanno arrestati durante la scorsa notte sette ragazzi tra i 19 e i 22 anni tutti residenti nel Modenese per i carabinieri di Ancona sono quelli della banda dello spray gruppo criminale specializzato in scippi dei locali e responsabili della strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque giovani e una madre 39enne per loro le accuse sono pesantissime sei sono accusati di omicidio preterintenzionale lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo uno è accusato di ricettazione tutti sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine nell'inchiesta erano già indagate a vario titolo 17 persone tra cui i proprietari e un addetto alla sicurezza del locale nonché il sindaco di Corinaldo e i componenti della commissione che ha rilasciato i permessi necessari alla discoteca era la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 quando nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo c'erano circa 1400 persone ben oltre la capienza consentita quella notte avrebbe dovuto svolgersi il concerto del rapper Sfera e Basta all'improvviso l'aria all'interno del locale diventa irrespirabile colpa di uno spray urticante spruzzato appositamente secondo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta da questa banda di giovani scippatori che utilizzava questo metodo criminale per gli scippi scoppia il panico e le persone fuggono verso le uscite di sicurezza la maggior parte verso l'uscita numero 3 davanti alla quale c'è una rampa che cede sotto il peso di centinaia di persone morirono in 6 per asfissia e schiacciamento almeno altre 120 persone rimasero ferite soddisfazione per l'operazione è stata espressa dal ministro degli interni Matteo Salvini ora in Val Chiavenna dove a causa di un tragico incidente sportivo sono morti due giovani austriaci mentre stavano praticando il canyoning in una gola di un torrente secondo le prime ricostruzioni i due probabilmente sono andati a sbattere contro le rocce perdendo l'appiglio la dinamica però è ancora in fase di definizioni l'ESI gli altri cinque amici e connazionali delle vittime potrebbero verificarsi una serie di attentati dell'ISIS entro la fine dell'anno l'allarme arriva dalle Nazioni Unite che dipingono un quadro allarmante del movimento estremista islamista globale Luigi Ferraiolo l'ISIS è pronto a colpire già nei prossimi mesi lo stesso vale per gli altri gruppi islamici l'allarme arriva dalle Nazioni Unite non è generico ma un segnale concreto molto preoccupante il rapporto è del coordinamento dell'intelligence ONU che raggruppa i servizi segreti di Mezzomondo con la caduta di Baguz nel marzo 2019 e la perdita del califato l'ISIS ha solo temporaneamente rinunciato al suo radicamento territoriale non ai progetti di terrore l'allarme era stato già anticipato da TG2000 a marzo scorso parlando con Vladimir Ivanovic capo del centro antiterrorismo delle Nazioni Unite certamente rimane una minaccia molto grave e quello che è ancora più preoccupante è che l'ideologia terrorista le idee terroristiche rimangono forti non è finita nemmeno la corsa a leggemonia fra gruppi integralisti se l'ISIS ha maggiore solidità finanziaria fra i 50 e i 300 milioni di dollari e vanta maggiore esperienza bellica e terroristica Al Qaeda resta in corsa nonostante le cattive condizioni di salute di Ayman al-Zawahiri e la morte presunta di Hamza Bin Laden figlio di Osama e possibile erede la minaccia comunque non rispetta i confini sono almeno 30.000 i combattenti stranieri che negli anni scorsi hanno raggiunto il sedicente stato islamico almeno 2.000 sono rientrati nel vecchio continente i programmi di deradicalizzazione non sembrano dare risultati adeguati avvertono le Nazioni Unite e anche le carceri sono diventate palestre di indottrinamento ed era un commando di uomini armati anche quello che ha ucciso ieri in Nigeria un sacerdote cattolico una morte tragica che porta a 15 le vittime degli attacchi alla chiesa cattolica nel mondo Maurizio Dischino l'Africa il continente senza mezze misure maestoso e coinvolgente ma doloroso per i drammi quotidiani nei quali confluisce anche il sangue dei consacrati cattolici che hanno dato la vita per il popolo a loro affidato l'uccisione in Nigeria del sacerdote diocesano Don Paul Ofu consumatasi il primo agosto fa arrivare a 15 la conta di consacrati uccisi quest'anno nel mondo 14 sacerdoti e una suora di cui 12 in Africa e 3 nelle Americhe il triste primato nelle terre africane già supera la tendenza del 2018 durante il quale su 36 sacerdoti uccisi nel mondo 19 più della metà hanno terminato il viaggio terreno proprio in Africa nel 2019 il paese africano più colpito è il Burkina Faso dove sono stati uccisi tre preti cattolici il sacerdote diocesano Don Simeone Yampa morto il 12 maggio e due salesiani padre Antonio Cesar Fernandez Fernandez morto il 15 febbraio e padre Fernando Fernandez ucciso il 17 maggio sempre in Africa un sacerdote cattolico ucciso in Cameron uno in Kenya uno in Madagascar uno in Mozambico due in Nigeria una suora nella Repubblica Centrafricana un prete nella Repubblica del Congo Brazzaville e uno in Uganda e tre preti uccisi nelle Americhe uno in Colombia uno nel Salvador e uno in Peru l'elenco del 2019 riporta come primo nome Don Nicolás Sarato di Sua sacerdote cattolico diocesano morto il 14 febbraio scorso in Madagascar in seguita alle ferite riportate durante una rapina e torniamo in Italia nel 2018 gli italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto alla media dei cittadini europei un differenziale che pesa quasi due punti di PIL numeri che arrivano dalla CGA di Mestre Beatrice Bossi pressione fiscale alle stelle e portafogli vuoti gli italiani sono tra i più tassati d'Europa c'era da immaginarselo ma la notizia forse è che non siamo i primi di questa classifica la pressione fiscale più alta d'Europa appartiene alla Francia con oltre il 48% a seguire ci sono Belgio Danimarca Svezia Austria e Finlandia il Bel Paese si piazza al settimo posto con una pressione fiscale che supera quella della media europea di appena due punti percentuali a dirlo è la CGA che ha comparato la pressione fiscale dei paesi dell'Unione e calcolato il gap esistente tra l'Italia e ciascuno dei 28 membri si scopre così che nel 2018 gli italiani hanno pagato 552 euro a testa in più di tasse rispetto alla media europea significa 33,4 miliardi complessivi un differenziale che pesa quasi due punti del prodotto interno lordo dopo di noi se la passano decisamente meglio tedeschi olandesi e portoghesi rispettivamente al decimo all'undicesimo e al tredicesimo posto prima della valanga di paesi europei che combattono con austerity e sopravvivenza in fondo la classifica ma è un merito c'è l'Irlanda il paese dove tutto funziona dove la pressione fiscale supera appena il 20% e dove i cittadini hanno sborsato quasi 5500 euro in meno di tasse rispetto agli italiani roghi nel palermitano una ventina di famiglie sono state evacuate questa notte per sicurezza minacciate dalle fiamme a ridosso delle loro abitazioni ancora una notte di paura quindi a Palermo dove una serie di incendi sta impegnando le squadre dei vigili del fuoco della protezione civile la forestale e le forze dell'ordine in azione anche i canaderi roghi si sono sviluppati tra Monreale e San Martino delle scale la libertà si conquista in cammino e non si compa al supermercato parole con cui Papa Francesco ha colto in Vaticano le guide degli scout d'Europa un incontro concluso pochi minuti fa la linea allora va a Cristiana caricato in Vaticano per noi buongiorno Cristiana si buongiorno ci troviamo all'esterno dell'aula Paolo VI dove pochi minuti fa si è concluso l'incontro tra Papa Francesco e 5.000 giovani arrivati da tutta Europa e da non solo oltre 20 paesi rappresentati e anche delegazioni provenienti dal resto del mondo arrivati per partecipare all'Euromut ma soprattutto per incontrare Papa Francesco erano tutti ragazzi dell'Unione Internazionale delle guide scout d'Europa che dal 27 luglio al 3 agosto hanno camminato attraverso i cammini che hanno fatto grande l'Europa per incontrare i Santi da Paolo di Tarso Benedetto di Norcia Cirillo e Metodio Francesco D'Assisi e Caterina D'Assiena per capire qual è il loro futuro il loro destino ma capire anche il loro posto in questa Europa e il Papa ha parlato loro con largo anticipo è arrivato per salutare tutti e ha centrato la sua riflessione su 5 importantissime parole del Vangelo date e vi sarà dato e si è concentrato soprattutto sulla prima parola date sentiamo che cosa ha detto che fa bene al cuore non c'è la sassietà dell'avere il più avere provoca più fame più voglia di avere e senza trovare quello che fa bene al cuore il cuore si allena non con l'avere col dono l'avere ingrassa ingrassa il cuore lo fa pesante lo fa mondano il dono lo fa leggero è un allenamento di tutti i giorni dare vuol dire alzarsi dalla poltrona dalle comodità che fanno ripiegare su se stessi e mettersi in cammino dare vuol dire smettere di subire la vita e scendere in campo per regalare al mondo un po' di bene per favore non lasciate la vita sul comodino non accontentatevi di vederla scorrere in televisione non credete che sarà la prossima app da scaricare a farvi felici non è lo smartphone non è la macchina più veloce è il vestito alla moda che rende felici ma qualcos'altro siamo con il presidente degli scout delle guide d'Europa Marco Platania il Papa ha parlato il linguaggio dei ragazzi ma soprattutto ha parlato il linguaggio scout ha parlato il linguaggio dei ragazzi sì ha invitato anche i nostri ragazzi e le nostre ragazze a vivere con intensità il loro momento di scoutismo sono arrivati qui dopo un lungo percorso che li ha portati attraverso i percorsi dei santi a svolgere delle attività attraverso gemellaggi fra i diversi gruppi e questo li ha portati anche a scoprire le diversità ma anche come dire una matrice comune un'identità comune che è quella proprio della fratellanza fratellanza europea e in alcuni casi anche internazionale perché erano presenti anche ragazzi e ragazze in tutto il mondo questi ragazzi erano già allenati a vivere senza social assolutamente sì hanno fatto cose che a volte possono essere considerate come dire fuori dal nostro contesto ad esempio ricopiare il Vangelo che poi è stato il dono che abbiamo fatto al Papa richiede attenzione richiede pazienza richiede precisione richiede lentezza sono tutti attributi e talenti che sono molto difficili da scoprire a volte nei tempi che ci offre la nostra società l'incontro con il Papa è stato festoso che carica vi ha dato? era la naturale conclusione del nostro percorso aspettavamo di incontrarlo ma è stato anche il rilancio il rilancio del cammino per ciascuno di loro per ciascuno di questi ragazzi nell'incontro con Santo Padre si sono sentiti rilanciati a affrontare le sfide della vita grazie Marco Platania la linea lo studio grazie Cristiana ha caricato ed è arrivato in Italia all'ultimo lavoro del Cirque du Soleil con la regia del maestro canadese Robert Lepage si tratta di una imponente e drammatica narrazione intitolata Canata che racconta 200 anni di umilazioni subite dagli indigeni del Canada il servizio è di Michele Sciancalepore un'epopea che fonde epica e poetica una storia dentro la grande storia uno spettacolo corale tutto questo è Canata frutto del genio analitico e visionario del regista canadese Robert Lepage a cui un altro grande spirito creativo come quello di Ariane Nushkin ha affidato i suoi 35 attori del Teatro du Soleil il prestigioso ensemble teatrale parigino c'è molto di magicamente evocato con spettacolari cambiscena in Canata che significa villaggio in lingua irochiana dalle ferite coloniali di tribù e culture native canadesi sradicate come i loro boschi confinate e umiliate alle cronache più recenti di periferie degradate affollate di indigeni alienati tossici o schiavi del sesso a storie di bambini autoctoni rapiti a vantaggio del mercato delle adozioni alla vicenda aberrante delle 49 indiane trucidate a Vancouver da un serial killer tra la fine degli anni 80 e il 2001 un viaggio di 200 anni nella coscienza collettiva canadese intenso intricato a volte affastellato di certo coraggioso e sofferto mai banale e soprattutto privo di retorica e spiazione anzi a fare da filo conduttore il personaggio di Miranda la pittrice francese trasferite a Vancouver che incarna la sfida impossibile ma necessaria di un artista che deve empaticamente lucidamente testimoniare e raccontare l'altro senza pretendere di essere il nostro telegiornale finisce qui il prossimo appuntamento con l'informazione del TG2000 per questa sera alle 18.30 grazie per averci seguito e rimanete con noi